Calcio di qualità, eventi serali che vanno dalla musica alla danza al teatro, ma soprattutto un altro punto di vista per abbracciare la città di Bari e la costa vicina. Tutto questo è città aperte dal mare, una manifestazione i cui ingredienti principali sono la curiosità ed una motonave. Fino al 18 agosto, infatti, grazie all'azienda provinciale per il turismo e al comune di Bari, sarà possibile assistere a concerti, DJ set, balli di gruppo e spettacoli teatrali e di cabaret a Bari Vecchia e sul lungomare, ma anche fare gite sotto costa, comprese di guida turistica, che illustrerà ai partecipanti le bellezze architettoniche e storiche del territorio. In programma, 8 escursioni offerte gratuitamente a quanti vorranno approfittarne, 80 i posti disponibili per ciascuna gita, posti che si possono prenotare a partire da giovedì, telefonicamente allo 080 592 8111 o all'ufficio relazioni pubbliche del comune, oppure via internet sui siti dello stesso comune di Bari e dell'APT. Gite confini culturali ed enogastronomici, visto che a bordo della motonave sarà anche possibile mangiare. Così, ha detto Gianluca Paparesta, l'assessore comunale al marketing territoriale, intendiamo offrire una opportunità in più di svago e divertimento anche a chi decide di restare in città nel periodo di Ferragosto, concentrando più eventi tra Italia-Spagna ed il Trofeo Team, il triangolare tra Milan, Inter e Juve. Il progetto Città aperte dal mare riguarda anche Molfetta, Trani, Polignano a Mare e Monopoli.